Alla fine di quest'anno mi fa piacere mandarvi un saluto ed un augurio di persona. È stato un anno difficile e complicato che ci ha costretti a modificare le nostre vite e il nostro modo di operare. Nonostante tutto abbiamo continuato il nostro lavoro insieme a voi. Grazie per il continuo supporto a tutti voi, partner dei brand della nostra famiglia, Villa Sandy, La Gioiosa, Casa Geller, Opere e Moro Coventi. Con voi e grazie a voi abbiamo raggiunto anche quest'anno importanti risultati, consolidando ed incrementando la nostra presenza sui mercati. Confido che il nuovo anno porti il ritorno alla normalità. Spero che potremo tornare a vederci di persona ed accogliervi a Villa Sandy. A voi, alle vostre famiglie, al vostro team, i più calorosi auguri di Buon Natale e di un anno nuovo che sarà sicuramente migliore del 2020. E ora un brindisi con l'ultimo nato, il Prosecco Doc Rosè. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.